il magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi andiamo di top 11 come sempre prima partiamo dalla scommessa bar underdog poi finiamo con la top 11 classica vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like di iscrivervi al canale e di andare a rivedervi un po' tutti i contenuti che sono usciti su questo canale perché sono usciti video per chi deve fare l'asta ma anche per i fantacalci all'istone per chi ancora dovesse cominciare un fantacalcio altra cosa ragazzi vi ricordo che oggi saremo in live non so ancora preciso l'orario perché o la faremo intorno alle 18 e 30 quindi tardo pomeriggio oppure questa sera dalle 21 in poi vi darò notizie su instagram venite a seguirmi così starete sempre aggiornati vorrei fare prima youtube e poi sulla piattaforma viola come sempre vi ricordo ci sono abbonamenti sia qui su youtube sia su twitch e nulla ragazzi ci vediamo ci vediamo in live oggi sicuramente anche perché come ieri voglio andare ad analizzare un po' le vostre rose i vostri reparti se siete solo iscritti al canale e comunque anche i vostri scambi e ieri abbiamo parlato nella live di carson se ve la siete persa ve la lascio qui sopra così andate a vederla come vi lascio lì sopra anche i consigli di giornata ma passiamo alle top 11 partiamo come vi ho detto da quella scommessa in porta ci ho messo di gregorio portiere che ha subito due gol in questa giornata ma c'era una partita decisamente difficile da da milano è un portiere che l'anno scorso ha fatto benissimo questa settimana lo voglio mettere c'è c'è un monza empoli vorrei andare a schierare lui poi i tre di difesa ci ho messo primo cambiato juventus bologna partita in cui lui è ex di giornata mi è piaciuto tanto a udine e in quel ruolo la su noi può fare veramente bene quindi lo metto lo metto come bella scommessina in questa giornata poi c'è ruggeri che ve l'ho detto anche nei fantaconsigli mi ha impressionato perché ha messo due bei cross uno sfruttato benissimo da de ketelare quindi col più uno l'altro de ketelare per me ha fatto il massimo è stato un po sfortunato però il cross di ruggeri rimane quindi probabilmente probabilmente sarà nuovamente lui il titolare per quanto riguarda bakker che mi state chiedendo in tanti è da aspettare ragazzi in questo momento se ruggeri fa così bene gioca lui però è normale che è un nuovo arrivo bakker non ha fatto benissimo nelle amichevoli e quindi al momento non è un titolare se lo prendete intorno al 2 2 mezzo per cento anche se fate l'asta oggi lo potete sempre aspettare magari potete fare la coppia anche con ruggeri e poi e poi ci ho messo lazari che lui nonostante abbiano perso a lecce a me non è dispiaciuto ha spinto tanto si è fatto vedere è un giocatore che devo dire un po mi ha deluso anche l'anno scorso perché le potenzialità di lazari ve lo ricordate quando giocava però esterno di centrocampo e lì faceva meglio non lo so da terzino io credevo potesse fare bene uguale probabilmente forse mi sbagliavo ecco no forse finora mi sono sbagliato perché per me ha le caratteristiche per farsi tutta la fascia però per un qualche motivo non riesce a fare bene come come faceva in in passato e poi passiamo al centrocampo qui ho portato tre scommesse più politano partiamo da castanos per me salernitano odinese è una partita in cui potrebbero uscire diversi bonus quindi voglio andare a rischiarmi magari un bel trequartista perché quello il posto in campo di castanos è uno che bene o male sa calciare in porta ci può fare anche qualche assist è sempre lì in zona pericolosa perché non lanciarlo nella top 11 scommesse poi ci metto ristanio qui vado un po anche a gradimento perché ovviamente la partita non è semplice cagliari inter però ex l'esordio è andato bene secondo me ci sta andare a schierarlo in una top 11 in cui si prova a prendere dei nomi interessanti ovviamente magari è più semplice mettere un politano da ex in napoli sassuolo però magari uno diciamo underdog passatemi il termine uno più costoso all'asta lo metto politano le altre vado a farmi delle scommessine tornando su ristanio è uno mi è piaciuto perché personalità saltava l'uomo la tecnica la conosciamo perché un giocatore molto molto tecnico e sono contento che ranieri gli abbia dato una maglia da titolare ranieri per me oltre ad essere un signore e anche un signore allenatore e se ha scelto l'istanio probabilmente cioè io non me l'aspettavo ero convinto che magari dopo qualche giornata iniziava ad accumulare un buon minutaggio e invece ranieri subito lo butta dentro su politano politano ora qui il problema è capire con l'istrum cosa cosa ne sarà di politano perché a me quest'anno piaceva tanto io l'ho preso perché onestamente ragazzi al due due mezzo per cento tre per cento a spaccare perché questo era il budget a cui andava politano per me era un affare importante e purtroppo per ora si complicano un po le cose perché se arrivano altri giocatori veramente forti su quello noi non ci possiamo fare nulla e poi ci mettono e che lui per me ha fatto bene contro il milan ha fatto vedere che ha personalità perché puntava l'uomo deve migliorare perché alcune volte magari con i compagni ben posizionati ugualmente magari ha calciato in porta e oppure deve essere deve essere un po giocare un po più da squadra più di squadra che solista però le qualità per far bene le ha il problema anche suo ora è che arriva Carlson perché come vi ho detto ne abbiamo parlato ieri in live è un giocatore importante se volete sapere cosa pensi su Carlson andate qui su c'è la live e potete andare a vedere a sentire tutto quello che penso di lui poi andiamo davanti davanti ho messo una scommessa e due certezze anche se diciamo belotti era una scommessa prima della prima giornata perché alla roma si aspetta l'attaccante intanto il gallo una partita due gol un annullato mi è piaciuto veramente tanto 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 l'ho detto nei diciamo nell'analisi post e sono curioso di rivederlo onestamente sono curioso perché belotti è un giocatore che ha sempre fatto bene e poi l'anno scorso l'ha detto anche lui non è mai stato al cento per cento e però è partito veramente con una gran voglia di fare e quindi finché giocherà è un giocatore importante per questa roma e poi ci metto beto sempre per i motivi che dicevo prima perché per me salernitana udinese potrebbe essere una partita con tanti bonus e con una difesa lenta in cui c'è ghiomber nella salernitana beto potrebbe far bene potrebbe far bene e portarci anche magari il bonus pesante che è quello che ci aspettiamo da lui ragazzi vi raccomando di lasciare un bel like perché non ve l'ho detto se non ha inizio video e anche perché ragazzi se non arriviamo a un certo numero di like perché settimana scorsa sono stati veramente pochi cambierò format non porterò le top 11 faremo qualcos'altro perché ovviamente io cerco di dare un aiuto a voi ma se il video non piace magari porto altro ecco e poi andiamo su bregalo giocatore sottovalutato avevo detto avevo detto ieri nel video dei fantaconsigli che non avevo mai preso bregalo invece sbagliavo l'ho preso al mantra come w e a un credito cavolo mi piace perché metti caso che lui faccia una stagione alla bregalo perché ce lo ricordiamo al toro che giocatore forte è un giocatore che presa uno la w al mantra può essere veramente tanta tanta roba questa settimana lo metto perché ha fatto bene anche se non ha portato bonus in in genoa fiorentina però mi è piaciuto tanto ha fatto veramente bene io non valuto solamente un giocatore se mi porta se mi porta il gol ecco e la prestazione mi è piaciuta tanto e quindi lo porto nella mia top 11 scommesse bar underdog ieri ieri non vi ho portato la canzoncina ve la faccio ve la faccio oggi ua ui ue la fortuna viene a me ua ue ui la fortuna viene lì dai ragazzi sostenete questo video con un like se vi piace questo format se invece non vi piace il format le top 11 ditemelo nei commenti se ci sono voglio dire più commenti negativi che positivi andremo a fare altro il giovedì allora 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 passiamo alla top 11 classica la top 11 classica faccio sempre una variante a quattro difensori poi ci spostiamo a tre mettiamo invece quattro centrocampisti in porta vado con scesni allora è un piccolo rischio perché la juve come vi ho detto è una porta che mi piace fanno non hanno l'europa quest'anno però sicuramente giocare contro il bologna non è sempre quindi è un rischio ma comunque non è milantoro non mi sembra una partita decisamente più facile come non mi sembra più facile magari un cagliari inter un napoli sassuolo quindi se devo andare a rischiare questa settimana mi rischio la porta juve sperando magari che scesni faccia un'altra prestazione da 7 più un 8 come primo difensore ci metto di Lorenzo viene da una doppietta di assist veramente bella prestazione 7 e mezzo in cui sono d'accordissimo in questo voto perché ha fatto veramente veramente bene a frosinone e ora c'è napoli sassuolo il napoli o sassuolo fa sempre una montagna di gol e quindi lo metto magari ci porterà un altro assist potrebbe portarci un bonus un bonus pesante un golletto quindi per tutte queste cose se ho di Lorenzo io lo metto a una cosa che vado a precisare perché poi magari arrivano nuovi iscritti e magari non sanno questo format la prima è la top 11 scommesse bar underdog in cui vi porto magari dei nomi non dico esotici ma che difficilmente si schierano delle volte in questa invece andiamo a mettere i migliori 11 per questa giornata per chi magari fa il fantacalcio a listone in cui può andare a metterci i migliori 11 per questa giornata quindi è ovvio che poi leggo su instagram su facebook e se fai immobile osimen lautaro con chi giochi con i bambini no è nato 11 per questa giornata e poi andiamo con danilo difensore da modificatore forse forse quest'anno potrebbe essere l'anno in cui veramente danilo ci porta ancora di più voti da modificatore non che l'anno scorso non l'abbia fatto perché se non erro ha portato una media voto non fanta media voto ma media voto di 6.25 anzi possiamo andare anche a a vederlo 6.2 di media voto e fanta media voto 6.46 giocatore che abbinerà voti ottimi a qualche gol perché è sempre pericoloso nei piazzati poi ci metto di marco il giocatore che conosciamo bene settimana scorsa ha fatto secondo me una bella partita non ha portato bonus però è andato tantissime volte al tiro e perché no perché non metterlo contro il cagliari dobbiamo mettere i migliori quattro difensori di marco ci sta sempre perché può portarci il gol può portarci l'assist può calciarci qualche punizione quindi è uno che ha tanti modi per andare a portare a portare in bonus e poi l'ultimo l'ho messo di arnandez ma non sono neanche convinto c'è stata anche una discussione nel gruppo livello campione in cui c'è chi dice teo arnandez è un brocco per me non è così il problema di teo arnandez a volte perché lui non ragiona scollega scollega tutto questo lo si vede nel momento in cui in bologna milan per me sta facendo una buona prestazione va a protestare in maniera plateale per farsi ammonire ora qual è il motivo per cui tu debba andare a protestare su uno zero a due in cui state facendo bene non si capisce alla fine ha fatto il suo non ho visto errori clamorosi qualche bella sgroppata però lui è un po come un altro elemento che per me è fortissimo ma deve togliersi questo vizio niccolò barella questo è suo fratello cioè barella è un giocatore straordinario a me piace un casino ma da quando ha esordito a cagliari sa fare gol sa fare assist ottime prestazioni poi c'è un momento in cui scollega anche lui si deve arrabbiare con l'arbitro ha torto ha ragioni ma dico se ti ha fischiato un fall o non te l'ha affischiato l'arbitro non torna indietro cioè non è che se tu protesti cambia la decisione no l'unica cosa che puoi fare è prenderti un giallo stupido ed è questo che sia lui che ternandez dovrebbero migliorare perché metto barella da ex in cagliari inter potrebbe essere anche lui un giocatore che ci porta un bel bonus al fantacalcio e quindi vado vado a metterlo l'altro nome è giocatore che a me anche lui fa impazzire ed è luis alberto lui viene da un assist contro il lecce in questa partita mi aspetto il gol e il genoa nella prima partita veramente ha fatto qualcosa di clamoroso sbagliando tutto quello che potevano sbagliare ora mi aspetto una pronta reazione da parte del genoa però ovviamente la lazio è superiore la lazio in casa dopo una partenza così con zero punti mi aspetto tanta tanta voglia di rivalsa e quindi bonus diversi bonus quindi luisa alberto lo metto assolutamente poi non abbiamo cambiato però in 3 4 3 passiamoci ora magari ne leviamo uno per poter inserire gli altri centrocampisti allora avevo messo un giocatore che vi ho fatto una testa quanto un pallone ed è tutto tocca a andreva andreva come come detto anche prima mi aspetto un'altra partita buona perché salernitano udinese potrebbe essere una gara con diversi bonus entrambi hanno preso due gol la salernitana contro la roma altri tre li ha presi l'udinese contro la juve e sono due squadre che prediligono attaccare quindi può essere una partita in cui escono tanti bonus e chi meglio dica andreva ce li può portare è un giocatore che da quando è stato messo lì trequartista sta facendo sta facendo veramente le fortune di noi fantallenatori per questo per questo l'ho portato in più video e anche a volte voglio dire bisogna 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 andare anche contro le critiche perché dice è troppo grande e però ragazzi quando fa bonus poi l'età non conta ecco e poi qui vi lascio vi lascio un po di scelta sono andato contro tendenze ci metto felipe anders ma lo so a sensazione mi piace questa settimana voi mi potreste dire ma come hai detto felipe anderson di non strapagarlo perché c'è isax non cambia questo il mio pensiero resta quello però dico anche che in questa giornata mi intriga magari con lecce ha sbagliato un gol che poteva fare perché nelle corde di felipe anderson però contro questo genoa io due lazio due centrocampiste la lazio volevo metterli ci starebbe mettere zaccagni al posto di luiz alberto di felipe anderson si ci può stare non lo so questa settimana mi sento di rischiare loro due però ovviamente per chi fa un fantacalcio all'istone importante e non se la sente di bancare zaccagni magari potete elevare uno uno dei due andiamo con i tre attaccanti ma vi invito a lasciare un like perché se non arriviamo almeno questa settimana 500 like cambiamo format portiamo altre cose perché è un format che ho sempre portato in questi anni se magari non vi piace più non è più innovativo ditemelo che cambiamo assolutamente format perché alla fine io sono qui per darvi un aiuto in base a quello che vi serve se non serve più andiamo con altro assolutamente poi ci metto vittorio vittoriosi man victor se faccio una top 11 classica faccio fatica a non inserirlo poi se dobbiamo fare una top 11 particolare allora magari si può andare su altro se facciamo una top 11 per chi deve schierare i migliori 11 di giornata in napoli sassuolo col sassuolo che ha una difesa con osimen che è un attaccante che segna in tutti i modi e col napoli che ha un gioco molto molto offensivo non posso non posso non mettervelo come non posso mettere uno che diciamo fa ogni ogni volta che va a cagliari un gol doppietta un gol doppietta quindi come faccio a non mettere l'autaro martinez che si presenta subito una doppietta è vero che va a cagliari che una squadra che con ranieri la fase difensiva la sa fare però dietro ancora il cagliari non vedo grandi nomi e l'inter davanti quando fa gol spesso spesso lo fa l'autaro quindi non è un giocatore che posso dire magari stasettimana non lo metto vediamo nelle prossime giornate ma anche una tradizione favorevolissima lì a cagliari e quindi non posso non posso non metterlo andiamo con l'ultimo nome vi invito a lasciare gli ultimi like se vi piace questo format e poi io ci metto ciri e mobbi lo so è l'attacco della settimana scorso ci ha fatto cinque gol però ci ha fatto cinque gol e chi guarda il format voglio dire perché in tanti potrebbero potrebbero dire ciri costa però è banale mettere questi tre davanti però ragazzi io vi posso dire che seguendo diversi diversi abbonati in fattura tutte le settimane possono andare a schierare la loro squadra c'erano settimane in cui magari non mettono lo simen non mettono il lautaro e quando perdi quei bonus poi non li riprendi più quindi noi dobbiamo andare a giocare al massimo al centrocampo mi sono preso un piccolo rischio però non puoi non puoi andare a rischiare tutte le settimane quindi la top 11 davanti io vedo questi tre che mi danno più garanzie rispetto a tutti gli altri poi nel corso delle giornate sicuramente andremo andremo a variare in base in base a tante a tante dinamiche perché metto immobile perché la difesa del genoa prende quattro gol contro la fiorentina perché l'ho visto benissimo a lecce non solo in versione goliador perché se gli arriva una palla gol la mette dentro e un'altra c'è stato un paratone lì di falcone ma anche in versione assist perché è lui che lancia lazari al primo tempo e lancia felipe anderson nel secondo quindi perché non andare a metterlo lui che è anche ex di giornata quindi tutti questi motivi ci metto ciro immobile ragazzi il video è concluso lasciamo un like se arriviamo almeno a 500 like continuiamo questo format se questo format non vi piace ditemelo nei commenti e ditemi magari un'alternativa a questo format che potrei portare sul canale perché ripeto il canale è mio ma è per voi per darvi un aiuto se questo format non piace ditemelo nei commenti e vediamo come come cambiarlo vi ricordo di iscrivervi al canale perché se siete iscritti al canale questo pomeriggio sera perché ancora devo deciderlo potremmo fare la live o alle 18 e 30 o alle 21 in base un po a degli impegni che devo incastrare sarò in live per valutare le vostre rose degli abbonati per valutare i reparti di tutti gli iscritti per valutare gli scambi di tutti quelli che arriveranno in chat a scrivere però per commentare nella chat dovete essere solo iscritti al canale che è gratis e basta cliccare qui sotto il tastino ragazzi ci vediamo anche domani poi con i fanta consigli in pillole ci vediamo oggi in live e vi auguro una buona giornata ciao ragazzi